Buongiorno, benvenuti all'ultima giornata di GetUp, svegliamo l'editoria, il laboratorio dal basso realizzato grazie al contributo dell'Arti, l'agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione. Prima di tutto ringrazio i partner del laboratorio, sono il distretto produttivo Puglia Creativa, la Puglia Fin Commission, il consiglio regionale della Puglia, l'associazione Laborintus, Puglia Libre, la Mediateca regionale che ci ospita, la Libre di Azaum che ci ha accompagnato in questo percorso con un banchetto di libri in vendita, con relativa tematiche trattate in questo laboratorio e ringraziamo anche l'Università degli Studi di Bari Aldomoro per il patrocinio che ci ha concesso. L'ultima giornata è dedicata all'innovazione in ambito editoriale e abbiamo come ospite Alessandro Ludovico. Alessandro è ideatore e direttore di una storica rivista cartacea e digitale che è Neural, è un esperto di media di cultura digitale ed è fondatore di una rete internazionale di editori che si chiama Magnet. Ha insegnato design multimediale, post digital publishing e post digital print presso diverse università italiane ed europee. Quest'anno ha conseguito anche il PhD in post digital print. Vi ricordo ieri sera abbiamo presentato a proposito il libro pubblicato con caratteri mobili. a questo punto lascerei la parola ad Alessandro. Grazie. Grazie, grazie anche per questa opportunità in particolare di raccontare un po' quelle che sono le mie ricerche ultime su questa galassia dell'editoria sia in formato tradizionale che digitale spero da una prospettiva abbastanza particolare. Dunque, una nota operativa. Ho pensato più o meno di suddividere questa giornata in due parti. Una prima parte in cui vi illustro un po' quelle che sono state le esperienze più significative in breve, miei personali, durante questo percorso di più di vent'anni. E altrettanto su quale percorso porta a questa teorizzazione dell'oggetto ibrido di stampa. Nella seconda parte vorrei in particolare accennarvi ai movimenti artistici che adesso utilizzano tecnologie sia digitali che tradizionali per sperimentare con i vari formati e con il concetto stesso di pubblicazione. Grazie ovviamente per l'introduzione. Volevo cominciare a concretizzare. Vi avete visto che mi sono portato un po' di materiali nello stile show and tell. Ah, ho c'è un microfono, quindi non mi serve. Sovrabbondanza acustica. Un po' di materiali anche per farvi vedere. Poi quando si parla di editoria ci sono, soprattutto editoria tradizionale, ci sono le cose stampate, insomma, con caratteri mobili. Ogni volta abbiamo... Ieri sera ci scherzavamo sul fatto di portare il nostro fardello ogni volta che andiamo in giro a con i vari prodotti, che ha anche un suo significato specifico. Questo è il primo numero di Neural. Novembre 1993, uscito fra l'altro per iniziativa e passione personale, semplicemente figlio di un'altra piccola esperienza editoriale che era nata un anno prima, anzi un anno e mezzo prima, data 1991, che era una piccola guida alla realtà virtuale. All'epoca lavoravo per un'etichetta discografica a Bari, etichetta discografica di elettronica sperimentale, già un caso a sé stante, la Minus Abends Records, e convinsi, vista la mia smodata ossessione o passione per editoria underground indipendente, riuscì a convincere Ivaniusco, non fu molto difficile convincerlo, a fare un prodotto musicale, uno dei suoi prodotti musicali, con una pubblicazione allegata. Visto che avevo cominciato a indagare questo settore della realtà virtuale, ed era un settore relativamente ancora sconosciuto, facemmo questo prodotto musicale, Virtual Reality Handbook, in cui cercavamo di fare tesoro di altre pubblicazioni, della lezione di altre pubblicazioni storiche, in particolare mi riferisco a una pubblicazione degli anni 70 chiamata Whole Earth Catalog, il catalogo di tutto il mondo, che era una pubblicazione nata in California con l'obiettivo di fare un catalogo di idee, progetti, materiali e quant'altro che afferissero uno stile di vita completamente diverso da quello di tutti i giorni, quindi se vogliamo oggi lo definiremmo un catalogo alternativo. Il punto è che il Whole Earth Catalog era una sorta di pagine gialle, riuscivano a fare pubblicazioni di 300-400 pagine, e farlo negli anni 70 significava dare l'opportunità, esporre chi lo comprava, a tutta una serie di piccoli progetti e di occasioni, di microtecnologie, di innovazione, se vogliamo, attraverso un'unica pubblicazione cartacea. La lezione di questa pubblicazione era che servivano, cioè che le pubblicazioni poi in realtà l'editoria la possiamo anche pensare come esporre il lettore a un'occasione, come la narrativa, la fiction, come la definiscono gli anglosassoni, è un'occasione di confronto con l'autore, con quello che l'autore riesce a mettere insieme e inventare, così un prodotto editoriale di quel genere apriva possibilmente una quantità innumerevole di finestre su altri micromondi, era oggettivamente un'opportunità per il lettore. E allora facciamo questa piccola pubblicazione, 40 pagine in tutto, un libretto come fu definito, 20 pagine in inglese e 20 pagine in italiano, con un cd di artisti, degli inediti, artisti nell'ambito elettronico abbastanza celebrati in quel periodo, ispirati al tema. Fatto sta che ci siamo trovati, come a volte capita, al posto giusto, nel momento giusto, nel senso che abbiamo pubblicato questo libretto a dicembre, a marzo i media erano pieni di questo nuovo oggetto che si chiamava realtà virtuale, questa nuova tecnologia che avrebbe cambiato l'umanità, per cui ci siamo arrivati, ci siamo visti arrivare l'inviato di panorama a casa che voleva intervistarci come se fossimo i Google che sapevano tutto di questo argomento, cosa che eravamo ovviamente due ragazzi di poco più di 20 anni non eravamo, ma quantomeno avevamo raccolto tutta una serie di informazioni interessanti e quindi in qualche maniera riuscimmo anche a tenere testa all'inviato di panorama dall'epoca. Ma questo giusto per dirvi, questo prodotto editoriale micro si trovò in un momento specifico, 1992, 2000 copie sono esaurite in 8 mesi, vendute un po' dappertutto perché essendo italiano-inglese, come tutti i prodotti dell'etichetta che è un respiro internazionale, fu un successo immediato, gioco facile per me cercare di riuscire a convincere Ivan a rilanciare la posta e quindi a dire ok il mio sogno è sempre stato quello di fare una rivista per i fatti miei, dividiamo gioia e dolori se vuoi e facciamo questa rivista insieme. Dopodiché nasce il primo numero di Neura. La storia curiosamente va parallela per altri ambiti, non eravamo i soli ovviamente a pensare di fare una rivista su cultura e tecnologia, fra l'altro in Italia nel 92 ce ne sono almeno 6 di testate che si occupano a livello diverso, amatoriali o meno di tecnologia. Fatto sta che non sappiamo che c'è un altro sforzo editoriale in Italia in quel momento che sta per debuttare ma in pompa magna su tecnologia e cultura che si chiama un numero virtual ma con numeri completamente diversi. Se volete la storia anche a livello di gossip c'è la figlia del proprietario della casetrice che produce Crona Cavera, la reata con una tesi su tecnologia e società e vuole fondare una rivista e il padre dice volentieri facciamo questa avventura editoriale. Potete capire che Neura ha fatto da due persone a Bari con l'etichetta discografica indipendente di musica elettronica e Virtua fatta a Milano prodotta da chi produce Crona Cavera erano incomparabili. Non solo, Virtua ha debutto un mese prima di Neura, ma non ne sapevamo nulla fino a quando non ci sono arrivate notizie per vie traverse, ma non sapevamo nulla nemmeno quando abbiamo cominciato a pensare a Neura di Wired che esce sei mesi prima di Neura. Come non sapevamo nulla di Wired, Stati Uniti ovviamente, Wired negli Stati Uniti. La scala ovviamente è assolutamente incomparabile, Wired ha avuto due anni di gestazione con un'agenzia di pubbliche relazioni che ha studiato tutto il progetto. Come non sapevamo nulla di Mute, rivista inglese che nasce sei mesi dopo Neura. Diciamo che fra le riviste realmente indipendenti Neura è stata quantomeno la prima in Europa. Ma è stata la prima in Europa del suo micro genere, non ha nemmeno senso parlare di prima, di seconda, di chi è arrivato tre mesi prima o tre mesi dopo. Posso solo dirvi che col fondatore di Mute che ha dismesso le pubblicazioni cartacee passando al digitale sei mesi fa, ci siamo incontrati qualche anno dopo e l'ultima volta che ci siamo visti è stato una settimana fa di persona. Con queste persone siamo andati avanti in maniera più o meno sistematica. Questo per dirvi come nasce Neura, che nasce come rivista cartacea in italiano. Nasce come rivista cartacea e nasce con lo sforzo di fare una rivista, vi posso assicurare, senza a parte un minimo di preparazione grafica, ma davvero minima, non non ho mai studiato seriamente grafica, semplicemente con l'entusiasmo di fare una pubblicazione. Quindi cercando di capire più o meno come farla, imparando e rubacchiando il mestiere a destra e a sinistra. Fatto sta che 21 anni dopo sono qui a raccontarvi di questa cosa qui, quindi in qualche maniera la forza iniziale non si è ancora completamente esaurita. Neura però nasce con un'idea specifica, perché come vi ho detto c'erano già 6-7 testate, nasce Virtua, Virtua mensile, distribuzione nazionale di quelle con i fiocchi. Noi siamo distribuiti dal distributore indipendente che distribuisce tutta la stampa più derelitta in Italia, che è di Estitoino, distributore comunque solido, solidissimo, che dobbiamo convincere a distribuirci, ma che comunque ci dà una mano. C'era questa sorta di concorrenza, nel senso che per me non l'ho mai vista come una concorrenza, secondo me era un coro di voci su un settore che era comunque ancora molto di nicchia. L'idea doveva essere quella, per me il lettore non doveva essere un cliente da conquistare, da magliare, ma il nostro obiettivo doveva essere capire cosa le altre testate non rappresentavano, non raccontavano per una qualche ragione, pur nella nostra micronicchia, e cercare di raccontare quello, che possibilmente collimasse anche con quello che a noi piaceva. E in effetti alcuni settori scoperti c'erano, per cui Nera viene messa insieme. Vedete, il primo numero ha un sottotitolo che fa sorridere probabilmente oggi, si divide in sei sezioni che sono realtà virtuali, network, media, suoni futuri, si sperava che lo fossero, fantascienza e UFO. Ovviamente l'ultima parte è stata sempre quella più controversa, fatto sta che anche quello ha prodotto poi delle cose interessanti nell'arco del tempo. Ma l'idea era sempre quella, andare a riempire possibilmente un vuoto editoriale da qualche parte. E poi c'è un'altra idea fondamentale che abbiamo sempre cercato di concretizzare, di rendere concreta con Nera. Il secondo termine, network, in realtà è un termine notale. Anche perché Nera nasce nel 1993, io contemporaneamente a Nera acquisto il mio primo account di posta elettronica, che fra l'altro per questioni varie mi viene attivato a gennaio 94, quando vado ad aprire trovo già una serie di mail che sono arrivate da gente che leggeva la rivista. La questione fondamentale è che tipo di rivista fare, che pari di tecnologia e di cultura. Due sono le direttive per noi fondamentali. Una è quella di fare una rivista che possibilmente non solo nei contenuti, ma anche nella forma, racconti o incorpori la tecnologia che sta cominciando ad emergere. Che secondo quello che sentivamo come una sorta di fuoco sacro avrebbe poi più o meno cambiato la comunicazione globale. Un po' quello che è successo successivamente. E quindi facciamo cose per cui abbiamo avuto i migliori strali dai tipografi, tipo, anche se la cosa può suonare poi righe oggi, decidiamo di fare numerazione delle pagine in binario. E quindi 0 e 1 in bianco e nero, come potete vedere. Abbiamo fatto tre numeri così, dopodiché il tipografo, dopo diversi mal di testa, ci ha detto o ci mettete i numeri normali, non li hanno nemmeno chiamati digitali, oppure andate a stampare da qualche altra parte. Io ho finito di impazzire perché gli dovevamo dare il menabò su ogni pagina appena il numero reale della rivista. Per noi questa, ripeto, può sembrare una cosa relativamente puerire, ma era importante per dare un segnale diverso di quello che stava succedendo. Non solo, ma facciamo altre cose, tipo andiamo a rispolverare l'optical art degli anni 70 e la mettiamo nel quello che si chiama Centerford, dove in Italia hanno paginone centrale, perché per noi la percezione dei nuovi media da parte degli schermi doveva in qualche maniera rientrare anche nella rivista stampata. Facciamo un'altra cosa, ancora più sensoriale, ancora più psichedelica, se volete, che è quella di includere dal primo numero, trovo in un attimo, quelli che all'epoca si chiamano 3D stereoscopici. Non so se ne avete mai visto questo tipo di cose. Adesso somigliano a delle sorte di QR code espansi, ma in realtà sono delle immagini, sembra solo un aggromerato di puntini bianchi e neri. In realtà c'è un processo scientifico che trasforma un'immagine chiara in bianco e nero in questo aggromerato e ci pubblichiamo tutte le precise istruzioni su come fare a percepirli. Bisogna sfocare, disalineare gli occhi, vedete qui, non so se riuscite a vedere, ci sono due quadratini neri. Bisogna guardare questi quadratini neri fino a quando questi quadratini neri diventano uno solo, quindi incrociando gli occhi, come quando si scherza e li si incrociano col dito davanti al naso. Quando si vede un quadratino solo si scende piano piano cercando di non muovere l'allineamento degli occhi su questa parte. Secondo i nostri test c'è un 85% delle persone che ci riesce, si vede venire fuori un'immagine dalla pagina stampata in tre dimensioni, cioè si percepisce un'immagine in profondità. Non sto a divungarmi sul principio scientifico, però in buona sostanza si attua una sorta di stereoscopia forzata, per cui gli stessi puntini in bianco e nero che vedete qui si allineano in maniera diversa e queste immagini viene fuori, ma siccome sono disallineati viene fuori e si percepisce la profondità, cosa che ovviamente la pagina stampata non ha mai potuto dare per sua stessa struttura. All'epoca scopriamo che c'è pure un plugin per Photoshop indipendente, stiamo parlando di Photoshop versione 2.0, che permette di fare queste cose. Immediatamente prendiamo la pala al bazzo e le integriamo. Come vedete lo sforzo è quello di integrare delle tecnologie all'interno della rivista che parlino anche allo stesso modo dei contenuti, espandano quelli che sono i contenuti, allarghino quelle che sono le possibilità della pagina stampata con le tecnologie che abbiamo a disposizione in quel momento. Ieri sera lo accennavamo, forse è utile ricordarlo, nel primo numero il nostro colpo, il nostro scoop è questo Agrippa, inedito di William Gibson. Agrippa è un libro che William Gibson, celebratissimo scrittore di fantascienza, scrive, ma che pubblica come una sorta di opera d'arte. È un racconto, è un'opera d'arte perché in edizione limitata ha un costo di circa 200 rotti dollari a copia, ma è pubblicata in una maniera molto particolare, e cioè ha una versione stampata, ma stampata con inchiostri sensibili alla luce, per cui più volte la si legge e più il testo del libro stesso vanifica, esposto alla luce si appiattisce, quindi se lo si legge tante volte non si riesce più a leggere, scompare, e in più ha un floppy disk allegato, che è ancora più, azzarda ancora più nell'immediato futuro. Su questo floppy disk c'è un file, un file autonomo, che una volta lanciato vi permette di leggere lo stesso testo del libro. È un file che gira su Macintosh. Ha una particolarità che però non viene svelata al lettore, e cioè che quando si gira la pagina, per passare alla pagina successiva, la pagina che viene girata viene fisicamente cancellata dal dischetto, per cui non è più possibile tornare indietro e rileggere la pagina precedente. In buona sostanza, se uno legge tutto il testo, quando ha finito di leggerlo, il testo è stato cancellato completamente dal dischetto e non c'è maniera di ricostruirlo. Vi dico, è fatto in maniera tecnicamente anche molto efficiente, nel senso che non c'erano programmini che poi permettevano di recuperare i file cancellati, l'ha fatto in maniera molto scientifica. Fatto sta che coscienti di questa pubblicazione, eccezionale per l'epoca, concettualmente soprattutto, veniamo contattati, visto che cominciamo soprattutto nei canali internazionali a dire che stiamo facendo una nuova rivista, se c'è qualcuno che ci vuole inviare materiali particolari, ci faccia sapere, c'è un piccolo collettivo di hacker americani, credo fossero il Connecticut, che ci dice, guardate noi abbiamo il testo di Agrippa, se volete ve lo passiamo per pubblicarlo. Non c'è da chiedere due volte, se volete paghiamo le spese di spedizione del dischetto, siamo qui pronti. Cosa che abbiamo solo ricevuto, ma ovviamente tradotto in italiano, che mi risulti, non sono un biblofilo accanito di fantascienza, ma dovrebbe ancora essere l'unica traduzione italiana di Agrippa, anche perché loro come fanno a ottenere tutto il testo? C'è qualcuno che si prende la briga di fare una copia del dischetto e poi di banale, anche qui l'hacking nella sua forma più nobile, nella sua forma originaria, è usare le tecnologie in maniera non prevedibile, non è quella di fare danni e crimini. Per cui nel concetto originale dell'hacking questi agri cosa fanno? Fanno una copia del dischetto e poi la guardano, ma contemporaneamente prendono una telecamera e la firmano, per cui riescono a registrare tutto il testo e poi a trascriverlo. Non ci vogliono poi tecnologie così tanto avanzate per ottenere una cosa del genere. Il fatto sta che noi lo traduciamo, ovviamente una traduttrice professionista e lo pubblichiamo sulla rivista, per noi ovviamente è il simbolo di quello che stiamo andando a fare. Una volta ottenuto da una crew di Hecker del Connecticut, diciamo che il problema su diretti d'autore non ce lo siamo posti. Devo anche dire che essendo un'opera che costava tanto in edizione limitata, non gli spostava molto, anzi in un'ottica più moderna potremmo dire che invece al contrario faceva parlare di questa cosa. Oltretutto non era uscita in italiano e terza questione, Gibson comunque è sempre stato abbastanza solidale con questo tipo di operazioni che descriveva anche in qualche maniera nei suoi libri. Lui viaggia molto al confine fra le possibilità inesplorate della società, sia sociali che tecnologiche, è quello che poi succede tutti i giorni, come queste cose si integrano in maniera quasi invisibile, per cui non temevamo in questo caso problemi di diritto d'autore. Fatto sta insomma che il primo numero va bene, volevo accennare, anche perché ieri stavo parlando con un'altra persona, si accennava a questa cosa, per il secondo numero c'è un'altra cosa particolare che è quella di stampare le istruzioni per costruirsi una dream machine, ecco qui le istruzioni e quant'altro, non so quanti di voi sono familiari con le dream machine, però recuperiamo anche qui da un'altra fonte, questa più ufficiale, le istruzioni per stamparla, facciamo scrivere un articolo per contestualizzare il tutto, ad Aurelio Cianciotto, con cui veniamo in contatto proprio in quei frangenti e fotocopiando sul cartoncino tutte le parti e recuperando quelli che sono i restanti pezzi che servono per costruirsi una dream machine e pensiamo che sia anche questo un contributo oggettivo. Dream machine, per coloro a cui non sono particolarmente familiari, è una macchina che emette, si costruisce con un giradischio a 78 giri un cilindro di cartone con dei buchi e una lampadina e i 78 giri sono particolarmente veloci per cui dai dei flash di luce. Il principio è banale, noi durante la vega, spero di ricordarmi tutto in maniera esatta, emettiamo onde alfa, alfa e beta potrei scambiare, per cui datemi questo beneficio di inventario. Durante la vega emettiamo onde alfa, mentre durante il sonno emettiamo onde beta. Fatto sta che durante il sonno REM, all'interno della nostra retina produciamo dei lampi di luce. Allora, questa macchina inventata da Jan Summers insieme a William Barrogs e quel giro di persone lì, emettendo questi flash di luce, ci si sta di fronte a occhi chiusi, induce il cervello a pensare di stare nella fase del sonno REM, anche se si è perfettamente svegli. E quindi il cervello comincia a emettere le onde del sonno REM, le onde beta. Che cosa succede? Non ci si sballa per capirci, ma per chi ci riesce, anche qui c'è una parte di persone che non riesce a entrare in questa fase, per una qualche ragione, cosa succede? Succede che si ha, la mia esperienza personale, che si percepisce un stato del corpo molto più rilassato, molto più, come posso dire, quieto in qualche maniera, anche mentalmente, perché è quello del sonno, pur avendo la coscienza di essere svegli. Questo è stato intermedio. Ancora una volta, per noi, tornando da un punto di vista editoriale, qual era il principio? Espandere le possibilità della pagina stampata, fornire il supporto per costruirsi una dream machine, significava, come facevano Summerville, Barrogs e Kipper Nuoro durante gli anni 60 e 70, significava espandere le possibilità, la staticità della pagina stampata. C'è un altro principio che abbiamo sempre cercato di seguire per Neural, tuttora, in maniera quasi, non quasi, molto stretta. Neural, proprio perché nasce con, nell'era in cui nascono i network, come dicevo prima, non doveva cercare di conquistare altre fette di mercato, come si direbbe oggi, e soppiantare la concorrenza, ma al contrario, possibilmente essere un altro nodo in quell'invisibile network di riviste che giaccia. A noi non solo non interessava che altre riviste chiudessero, ma anzi sarebbe stato auspicabile che altre riviste nascessero e che coloro che erano interessati a queste tematiche avessero ancora più punti di riferimento e di confronto. E questo perché nascevano i network e l'utopia della prima fase di internet è proprio quella che personalmente abbiamo vissuto assolutamente in prima persona, cioè aveva un mezzo orizzontale in cui i nodi contano, ma i nodi non sono tutti uguali, non parliamo di una orizzontalità assoluta, al contrario invece i nodi, ci sono nodi più importanti e nodi meno importanti. E l'ambizione nostra, come auspicavamo fosse anche delle altre riviste, era di qualificarsi come nodi importanti. E parlo di nodi perché i nodi in un network sono quelli attraverso cui passa l'informazione. E il processo editoriale, anche qui noi ci siamo assolutamente improvvisati, nessuno di noi ha studiato né giornalismo né tecniche editoriali, anche se confrontandomi con una collega canadese riflettevamo sul fatto che non è che ci siano scuole mondiali in cui si insegna ad essere editor nei fatti ma è una sorta di attitudine, ma il principio dell'editor è quello di fare da filtro, cioè di fare da filtro fra l'amore di informazioni che ci sono e quelle che secondo l'editor sono quelle che vanno a costruire un panorama interessante, specifico e che nel suo complesso dà una sufficiente e interessante prospettiva di quello di cui si sta parlando. E questo è proprio il principio del nodo nel network, per cui i nodi in qualche maniera devono conquistarsi la loro autorevolezza. E questa questione di autorevolezza e di riconoscimento dell'autorevolezza è uno dei principi che poi in realtà viene applicato in tutta una serie di tecnologie digitali. Se pensate allo sviluppo di Linux, giusto per fare una citazione, lo sviluppo di Linux è basato esattamente su questo, è stato premiato come opera d'arte perché è un processo collettivo enorme in cui ci sono dei nodi particolari, quindi delle persone particolari a cui viene riconosciuta l'autorevolezza di guidare dei piccoli gruppi. Quindi non stiamo parlando dell'orizzontalità assoluta, tutti uguali, tutti hanno gli stessi rettatori, no. Ci sono, c'è una organizzazione strutturata, ma l'autorevolezza viene riconosciuta. E questo per noi dovrebbe essere importante, essere un network che garantiva, una cosa per noi fondamentale, il fatto che le idee potessero circolare. Cioè noi quello che volevamo fare dall'inizio era una rivista che parlasse di idee sulla tecnologia, non che parlasse tecnicamente di quello che succedeva, ce n'era già una caterva, né che parlasse in maniera totalmente astratta di quello che stava succedendo, ma che parlasse delle idee che giravano intorno alla tecnologia da un punto di vista culturale. Questo diciamo è un po' il principio fondamentale di Neural. Potrei ovviamente parlarvi per ore di questa cosa, ma sarebbe altamente dannoso. Più per voi probabilmente che per me, ma anche per me, per cui volevo accennarvi invece a questa cosa più specifica riguardante i network che abbiamo poi cercato di applicare in maniera concreta. Allora, se questo era il nostro principio, il passo era concettualmente breve nel cercare di fare un network, network di riviste. Perché se c'erano i network telematici dove dovevamo i nostri riferimenti, forse cominciavamo ad essere riferimento per qualcuno. L'idea era quella che, in quanto nella posizione privilegiata, ma anche non semplice, di fare una rivista stampata sulle idee tecnologiche e culturali, condividessimo il percorso con un po' di gente. Per cui l'idea di fare un network di riviste era quella che, insomma, ribolliva già da qualche anno dopo e avevamo cominciato a stampare la rivista. Questa necessità profonda si concretizza dieci anni dopo, nel 2002, quando, dopo aver parlato con un direttore artistico di un'istituzione olandese, lui mi dice, guarda, effettivamente ci avevamo pensato anche in passato, ma vorrei organizzare una riunione di riviste a Siviglia per una settimana. Tutte le testate, o quantomeno buona parte delle testate, che parlano di arte e nuove tecnologie. Fai di me quello che vuoi, ma realizziamo questa cosa qui. Dopodiché ci invita, lui nel frattempo diventa direttore artistico di Transmediale, ci invita quattro testate a Transmediale, ci cominciamo a vedere lì e ci dice che a maggio ci vedremo tutti a Siviglia. Sbarchiamo tutti quanti a Siviglia, siamo 11 editor di 11 testate diverse, tutti europei tranne Fran Illich, che veniva di stanza in Europa per un po', ma è basato a Città del Messico. E dalla prima riunione, dal primo panino in cui ci facciamo, io mi metto, si potrebbe dire a Bari come la zecca, nel senso che seduti là e comincio a dire, guardate, secondo me questa è un'opportunità unica, che siamo qui tutti insieme, dobbiamo cercare di stabilire una struttura più formale, perché possiamo passare 5 giorni a mangiare, bere, scherzare, raccontarci quello che facciamo, ma se usciamo di qui invece con una sorta di canovaccio di collaborazione, avremmo fatto una cosa molto importante per tutti noi. La cosa viene più o meno recepita, non eccedo nella pressione su questa cosa, ma solo accennando ai problemi che ovviamente ciascuno aveva nella produzione di riviste stampate e nella contiguità di tematiche, la cosa viene fuori in maniera abbastanza naturale, per cui ci dividiamo in commissioni, cominciamo a ragionare e l'ultimo giorno abbiamo anche il nome di questo network e formalmente stabiliamo la chiusura dei lavori di questa sorta di seminario prolungato per una settimana, che è Magnet, Magnet, ossia Magazine Network, il sottotitolo per capirci è Electronic Cultural Publisher, per cercare di trovare un punto comune fra tutti noi. Cosa doveva fare Magnet? Tutto e nulla, nel senso che quello che cercavamo, l'ambizione era quella di stabilire collaborazioni a tutti i livelli, cominciamo a discutere alcune collaborazioni pratiche, quelle che nell'immediato riusciamo a fare sono scambi di contenuti o commissioni di contenuti dagli una agli altri. Tenete presente che avevamo riviste da, io l'unica italiana, Inghilterra, Slovacchia, Paesi Baschi, quindi Spagna, Portogallo, Austria, Germania, Serbia e andando avanti. La maggior parte delle quali nelle lingue originali, che era ovviamente come il limite maggiore probabilmente dell'integrazione europea e anche per noi il limite maggiore nello scambiarci contenuti. Ovviamente l'inglese era la lingua di mezzo, ma quello che facciamo è dire capiamo come oggettivamente possiamo collaborare. Per cui commissionarci o scambiarci contenuti è già un primo passo. Ma ovviamente dovremmo andare oltre. Quello che cerchiamo di fare è stabilire anche dei protocolli pratici. All'inizio, e qui torniamo alla questione dei nodi e delle produzioni, diciamo no va bene, allora apriamo come si faceva per qualsiasi iniziativa all'epoca una mailing list e discutiamo di quello che dobbiamo fare. Che cosa facciamo? abbiamo una scadenza di una prima richiesta di fondi a livello europeo? Mettiamoci insieme e facciamo questa application. Sì. Peccato che ognuno poi ha anche da fare non solo le cose che fa per sé ma soprattutto la rivista. Quindi c'ha le scadenze della rivista. Se avete esperienze editoriali, come presumo un minimo, sapete quanto sanguinose siano le scadenze editoriali. scompare il mondo intorno a voi e siete completamente immersi nel arrivare all'ultimo minuto per avviare la produzione vera. E questo succede per tutti noi. Il problema che ne scaturisce è che facciamo questa application, una rabbattata all'ultimo momento, che ovviamente non viene, non viene, non passa. Non solo, ma ci sono anche, scattano naturali sentimenti fra chi ha lavorato di più, che ha lavorato di meno, ma in fondo ci abbiamo tutti da fare, eccetera, eccetera. E capiamo subito una lezione che avremmo dovuto capire anche prima. Come prima dicevo, i nodi non sono tutti uguali, così all'interno di un gruppo di questo genere prendere decisioni discutendo tutti di tutto, è profondamente inefficace. Ieri sera parlavamo di un'altra questione, di etichette musicali particolarmente, che fanno prodotti particolarmente sofisticati. e c'è una di queste etichette di elettronica radicale. Una volta chiacchierando con il suo fondatore, lui mi diceva, Alessandro, la produzione non è un processo democratico. Non può essere un processo democratico. Quando la produzione diventa un processo democratico si producono delle schifezze. Loro producevano dei dischi bellissimi e da un punto di vista proprio materico, con artisti altrettanto sofisticati, ma erano assolutamente duri con gli artisti. Dicevano, tu fai la musica, ce la dai, ti fidi di quello che facciamo noi, non metterai bocca su una virgola del packaging, perché quello lo facciamo noi, punto. Ci puoi dire dopo se ti piace o non ti piace, ma noi cureremo la produzione. Ed erano bravissimi a farlo. Ed è una lezione che si ripercuote su Magnet, mi è tornata in mente poi successivamente, perché quando dobbiamo andare a stabilire dei protocolli di collaborazione, avere tutti che discutono di tutto, non funziona. Allora che cosa pensiamo di fare? La cosa va un po' impigrendosi. La cosa che tentiamo di fare a un certo punto è un abbonamento cumulativo, visto che siamo riviste. Cioè il fatto che versando una certa cifra ci si possa abbonare a più riviste contemporaneamente. Anche quella non funziona molto bene, perché chi prende i soldi, come ridistribuisce le spedizioni, qualche abbonato si incomincia a lamentare che non gli arrivano i numeri perché c'è qualcuno che è in ritardo e quant'altro. Comincia a diventare più, come posso dire, comincia a perdere il suo appeal iniziale, più che appeal proprio l'ondata di entusiasmo. Capita e quando sembra che questo network nato con tutto l'entusiasmo semplicemente vada perdendosi, arriva un'occasione e cioè abbiamo un invito da un museo della fotografia a Glasgow che ci dice venite a raccontarci, veniteci a raccontare come funziona il vostro network e contemporaneamente la rivista dei Paesi Baschi ci dice che noi abbiamo un piccolo finanziamento da parte dell'autorità, dal ministro dei Paesi Baschi per fare una pubblicazione, ora o mai più. Facciamo questa pubblicazione che può essere il canto del cigno o l'inizio di una nuova fase. A quel punto però io sono il primo a dire io la voglio fare e voglio spenderci del tempo, però non la facciamo tutti insieme, chi la vuole fare mi dice che la vuole fare e viene con me a farla, gli altri se vogliono collaborano se no siamo amici come prima e stiamo comunque tutti insieme. Fatto sta che in tre ci mettiamo fattivamente a fare questa pubblicazione, la riusciamo a produrre, a stampare il giorno prima di prendere l'aereo per Glasgow e la portiamo lì. Ed è la prima antologia, il primo Magnet Reader in cui ciascuno porta un contributo a questo dibattito che comincia ad allargarsi. siamo nel 2005, passati tre anni, e il dibattito oramai è quello della relazione fra editoria tradizionale ed editoria digitale, che per noi sta anche nella pratica di tutti i giorni, visto che parliamo di arte elettronica, arte digitale e la rappresentiamo sul medium stampato. Per farvela breve è l'inizio fortunatamente in una nuova fase. Dopo questo primo numero ne pubblichiamo altri due, i secondi due in realtà c'è un'altra persona che ci dà una mano, il terzo viene addirittura, si riesce a produrre tramite un altro piccolo finanziamento di un'altra organizzazione olandese. Fatto sta che stabiliamo un network vero e proprio e quello che cominciamo a fare è quello di condividere conoscenze. E infatti lo slogan con cui ci eravamo lasciati a Sevilla era collaboration is better than competition. Collaborare è molto meno che competere. Che cosa facciamo nei fatti? Quando riusciamo a fare delle riunioni fisiche, c'è il festival a Berlino e ciascuno ci va per i fatti suoi o qualcuno viene invitato e allora gli altri cercano di andarci, facciamo una riunione in cui diciamo che cosa abbiamo scoperto fino a quel momento. Nero per esempio è la prima del gruppo a utilizzare Paypal per i pagamenti, non so se vi capita di utilizzare un sistema per non solo pagare ma soprattutto ricevere pagamenti online, non solo da altri utenti che hanno un conto Paypal ma soprattutto da chiunque ha una carta di credito con soprattutto nel 2006 e 2007 commissioni sul pagamento che sono un decimo di quelle che chiede Banca Sella in Italia, giusto per capirci. E siccome lo esperimento con successo vado da loro e gli racconto come funziona. Si possono accettare pagamenti a carta di credito, si possono girare soldi a un altro utente Paypal, non solo ma si possono accettare pagamenti in otto valute diverse. I miei colleghi inglesi cominciano a sorridere come si dice da una orecchia all'altra perché finalmente possono accettare contemporaneamente pagamenti in euro in sterline senza farsi grossi problemi su due conti diversi, senza pagare nessuna cifra accessoria. Fatto sta che questa è una delle prime collaborazioni. Loro invece, Cipaci, cominciano a parlare di come funziona il print on demand e sono i primi a sperimentarlo. Print on demand anche qui, non so quanta familiarità avete con queste tecnologie, è semplicemente il principio di avere delle macchine a stampa tipicamente digitali e avere un service che è tipicamente puramente online. Cioè ci mettete, uploadate il vostro PDF, il print on demand permette di produrre anche una sola copia di un prodotto editoriale. Una, dieci, mille, quante ne volete. I prezzi per una sola copia sono incomparabilmente più bassi a quelli della tipografia tradizionale per ovvi motivi. Non c'è nessun avviamento di macchina, nessun materiale sprecato, nessun tempo che viene impiegato perché la produzione è puramente digitale, ma è una metodologia di produzione che ha per certi prodotti grandi vantaggi. E loro cominciano a utilizzarlo perché è un po' come gli altri, essendo inglesi, hanno una clientela internazionale. Trovano un produttore, un'azienda di print on demand, che se ricordo bene, si chiama Lightning Strike, che ha una sede in Europa, una negli Stati Uniti e ne sta per aprire una in Australia. Che cosa comporta per loro? Comporta che stampano in Europa le copie che riservano per il mercato europeo, che sono poche, sono poche nel senso che non stiamo parlando di decine di migliaia di copie, ma possono stampare le copie che riservano per il mercato europeo in Europa e spedirle da lì ai distributori. Le copie che riservano per il mercato americano e spedirle da lì e in prospettiva, degli a due anni, anche le copie che riservano per il mercato australiano e spedirle localmente, il che gli fa risparmiare molto sulle spese di spedizione, ma anche sulle tempistiche. Finalmente in Australia i distributori riescono ad avere le copie più o meno contemporaneamente a quello degli altri, invece che aspettare molto più tempo e avere per loro dei costi molto maggiori. Quindi la nostra collaborazione diventa concreta. Quello che facciamo, come detto, è condividere conoscenze e funziona. Questo per quanto riguarda la questione del network, di come vedete, per me in particolare diventa un argomento centrale. Ci tornerò un po' più tardi su queste cose. Qui si ferma il percorso più collettivo e vi faccio entrare rapidamente nel percorso più personale. Non ho fatto questa premessa. Io, ripeto, posso andare avanti fino all'esaurimento delle mie forze, ma in qualsiasi momento c'è qualsiasi tipo di domanda, obiezione, curiosità e quant'altro, interrompetemi senza indugi, perché sarò felicissimo di risponderli. Questa ossessione per la stampa e questa relazione per me ha comportato il fatto che in questa relazione ho già cominciato, con queste tre piccole antologie di testi, a riflettere su questo rapporto tra stampa digitale e stampa tradizionale. E ho cominciato ad accumulare materiali sicuramente già a partire dai tardi anni 90. Quello che succede è che nel 2009 ho questo invito inaspettato a Celserino, che in realtà è una delle mie più fantastiche, non più, una delle fantastiche esperienze lavorative, la migliore in assoluto, per cui un collega alla Villeneconi Academy di Belle Arti Villeneconi di Rotterdam mi dice, guarda, io ho la possibilità di invitare ricercatori per sei mesi e mi piacerebbe proporti una ricerca sulla relazione, visto che ci conosciamo da tempo, sa benissimo delle cose che faccio, proprio sulla relazione fra stampa, stampa digitale e stampa tradizionale. È praticamente un invito a nozze con mega diamante per usare una metafora, per cui accetto immediatamente, mi ritrovo a fare il ricercatore, il research fellow, quindi non so come può essere tradotto in italiano, ma insomma ricercatore associato temporaneo comunque per sei mesi, riesco anche a stabilire un accordo per cui non devo nemmeno stare lì tutto il tempo, ma posso stare a Bari e andare lì di tanto in tanto per le attività che ci sono e l'aneddoto è quello che mi dicono, ovviamente fra i tuoi doveri c'è quello di produrre un testo. Certo, ovviamente, che stiamo a fare? Facciamo una ricerca, è ovvio che dobbiamo produrre un testo. Cioè, senti, un testo dovrebbe essere indicativamente di, sapete che i rangosassi ragionano in termini di parole e non di caratteri, perché hanno delle lunghezze molto più prevedibili, di circa fra lì 7.000 e 10.000 parole. Dico, no. Cominciano a guardare, un po' scongiutare, diciamo, ma possiamo fare anche più corto, insomma, 7.000, 10.000, però, insomma, un testo che poi riusciamo anche per provare. Dico, no, non ho intenzione di fare un testo così, perché sono dieci anni che sono su queste cose, ovviamente se mi supportate io posso fare un intero libro su questi argomenti. Sarebbe assolutamente sprecao, sei mesi, pagato da ricercatore, con tutto quello che mi mettete a disposizione, devo fare un testo di 15.000 parole. Datemi supporto e sono assolutamente entusiasta nel di fare un intero libro. Ed è la genesi di Post Digital Print. Non faccio lo spot di 30 secondi, ma è per farvi capire come nasce questo libro. In realtà la gestazione del libro richiede altri due anni, altri tre, diciamo che fra la prima bozza che è del 2010 e esce il 2012, ci sono altri due anni di lavoro che vengono messi su. Anche perché, anche qui, come probabilmente avete familiarità con esperienze editoriali, quando fate un saggio, soprattutto riguardante questioni tecnologiche, la febbre che vi viene sistematicamente di perdervi qualcosa che esce il giorno dopo che il libro è arrivato in libreria e che vi dice, sì, vabbè, ma l'iPhone dove sta qua sopra che è uscito ieri? E vabbè, cercate di dilazionare fino al punto in cui l'editore vi dice o fra una settimana oppure questo libro non si farà mai più in vita vostra. Diciamo che questi due anni di gestazione sono stati anche utili perché nel frattempo è uscito l'iPad con la risoluzione retina che era una cosa importante da metterci, ma in realtà anche se fosse uscito prima non sarebbe cambiato molto. Vi accenno brevemente ai vari capitoli del libro per darvi un'idea di quello che contiene. Il primo capitolo è una ricerca storica in tutte le volte, questa è una delle prime parti, i primi punti da cui sono partito, tutte le volte in cui è stata annunciata la morte della stampa. Che visto che quando è arrivato il digitale si cominciano a dire, sì, la stampa finisce perché passa al digitale, come la musica, come il resto. prendiamoci conto, non sarà oggi, non sarà domani, sarà dopodomani, il cartaceo non ha più se, è pesato, fa male la schiena, è lento, non si può, non posso fare la ricerca, è finita. Allora, siccome avevo un'opinione radicalmente opposta, una sensazione soprattutto radicalmente opposta, mi sono detto ma non è che è già successa questa cosa? Che vagamente mi ricordavo che c'era qualcun altro che ha detto no, la stampa è finita, ovviamente era McCruan, ma anche lui in realtà la dice in maniera molto diversa andandoselo a studiare per Benino. Per cui ho trovato il primo esempio che poi dà il sottotitolo che è una sorta di lenza per i lettori, ossia quando abbiamo deciso di sottotitolare il libro, uscito nel 2012 in inglese, nel 2014 per caratteri mobili, la mutazione dell'editoria dal 1894, ovviamente l'abbiamo fatto apposta, perché i lettori si dicessero post-digital e che diavolo succede nel 1894 e comprate il libro e così ne vedete conto. Però non era campata in aria questa cosa, perché nel 1894 c'è questo testo che si chiama Conte pur le bibliofile in cui due autori si divertono a immaginare il futuro del libro, cioè quello che viene dopo il libro stampato. Raccontavamo anche ieri sera in breve, siamo nel momento in cui arriva l'elettricità che oggettivamente cambia il panorama mediatico a 360 gradi, quello che loro si immagina è che tutti i testi stampati vengono sostituiti da comunicazioni audio. Per cui c'è questo illustratore che si chiama Robida che si diverte a disegnare questi futuribili aggeggi, una sorta di hi-fi casalingo in cui si ricevono i racconti la sera e c'è una manopola per decidere se si vuole un giallo o un romanzo o qualcosa di questo genere e automaticamente vengono trasmessi e ci sono queste sorte di cuffie. Questa è una cosa abbastanza interessante che ovviamente non esistevano all'epoca, ma ci sono queste sorte di cuffie che il signore con papalina e pantofole e giacca da camera si mette per ascoltare queste cose in un futuro del 1894, così come cose ancora più strambe, tipo questo carretto, al posto del ridicolo c'è questo ambulante delle notizie che ha le notizie registrate in qualche maniera in questo carretto all'interno e ha questi cavi che lanciano le finestre e le persone possono sentire le ultime notizie in breve mettendosi queste sorte di cuffie dalla loro finestra e per passare poi avanti. Insomma, è il primo esempio storico, magari ce ne sarà qualcun altro, non sono ancora riuscito a recuperarlo, in cui c'è qualcuno che dice la carta va a morire, ci sarà un'altra tecnologia che la soppianterà. Fatto sta che la stessa cosa succede per la radio, la stessa cosa succede quando arriva la televisione, McCoy ci insegna questa prospettiva diversa e la stessa cosa succede quando arrivano ipertesti prima delle reti, la stessa cosa succede per le reti, insomma ho trovato credo otto, poi dopo ne ho trovati anche altri, episodi in cui viene dichiarata la morte della stampa ma noi stiamo ancora a discutere di libri e carta stampata, che quindi non è mai successo. Il secondo capitolo parla dei movimenti artistici a partire dalle vanguardie storiche del XX secolo fino ad oggi che hanno utilizzato la carta in maniera strategica. Anche qui una delle cose che sinceramente un po' mi ossessiona dal punto di vista positivo, rimetto in gioco il concetto di network, cioè quanto il concetto di rete, ma non di rete, telematica, internet, ma il concetto di network come magnet, cioè di costruirsi il proprio network sia poi alla base di strategie artistiche ma anche poi di strategie diverse, quelle che possono essere strategie personali, volendo anche imprenditoriali. E il concetto di network, se andate a dare un'occhiata a cosa fanno i movimenti artistici, lo comincia ad applicare Fruxus già negli anni 60, ma in maniera specifica, ma in qualche maniera lo applicano se volete anche i dadaisti. I dadaisti hanno un network sparso per tutta l'Europa, fanno una serie di pubblicazioni che poi tentano di scambiarsi, quindi paradossalmente le strategie artistiche diventano interessanti per quanto mi riguarda tanto quanto le innovazioni tecnologiche. E uno degli sforzi che questo libro rappresenta è quello di intrecciare queste storie, cioè di parlare di sperimentazioni artistiche da un lato, innovazioni tecnologiche dall'altro e di tutto quello che gli succede intorno, sempre in maniera strettamente culturale. Dopo di questo ci sono altri due capitoli che parlano rispettivamente dalla prospettiva della carta, quindi l'evoluzione della carta in un mondo digitale, se, dove, quando va a finire, e poi invece della nascita dei libri digitali e che relazione hanno invece con quelli stampati. ci sono altri due capitoli, il quinto che parla di un concetto che sto cercando di sviluppare, quello degli archivi distribuiti, sul quale magari possiamo tornare dopo, perché se no mettiamo ulteriore carne al fuoco per quanto riguarda idee e strategie. E il sesto capitolo è quello dedicato alla rete. Anche qui come concetto che va oltre, vorrei sottolinearla questa cosa, va oltre quello del network di per sé, ma va nel quinto, quello finale, nel sesto scusate, quello finale, quello che cerco di perorare, è il fatto che le organizzazioni di rete, soprattutto di alleanza sulla scorta di Magnet, cioè l'alleanza fra diversi soggetti, potenzialmente anche concorrenti, che invece decidono di attuare una strategia comune per sostenersi a vicenda, può diventare assolutamente strategica e per quanto mi riguarda è assolutamente strategica nei tempi che viviamo. Dovrebbe essere una delle vie d'uscita alla confusione generale. Una delle tesi che cerco di perorare nel libro è che comunque non c'è ovviamente la morte del libro, non sta morendo, non muore, non muore sicuramente né domani né dopodomani, non solo, ma non c'è nemmeno quello che l'industria in qualche maniera propaganda, e cioè la transizione verso il digitale. Non so quante volte è capitata di sentire queste espressioni. Transizione che si passa da uno stato all'altro, cioè non c'è una evoluzione della stampa, no, c'è una transizione. Passiamo al digitale, è una delle espressioni che si usano. Passiamo al digitale significa buttiamo tutto quello che c'è prima e usiamo esclusivamente il digitale. E una delle tesi che cerco di, anzi una delle tesi principali che cerco di sostenere nel libro è quella che non c'è nessuna transizione fatta in questa maniera univoca, unilaterale potremmo dire, ma c'è un intreccio e questo intreccio è talmente intricato che cercare di trovarne una unica direzione significa perdere il senso di quello che sta succedendo. Non c'è una transizione perché non stiamo passando al digitale. Nel 2014, nonostante tutte le previsioni più rose, abbiamo comunque, se volete guardare i dati dell'industria, una produzione di pubblicazioni editoriali digitali che è ancora ridicola per quantità rispetto a quella tradizionale. Sì, ci sono previsioni di aumento geometrico nell'arco degli anni, anche nel libro, il libro si apre con un grafico prima dell'introduzione che è una timeline, una linea del tempo per l'estinzione dei quotidiani. E secondo questo istituto di ricerca l'ultimo quotidiano dovrebbe essere venduto nel 2043. Può essere. Fatto sta che è la prospettiva sbangata, qui ovviamente si affronta un problema specifico, quello dei quotidiani che hanno delle metodologie di produzione molto precise e molto specifiche. Ma il problema è non guardare quello che sta succedendo come transizione, cioè come passaggio al digitale. Per cui dobbiamo farci il segno della croce che la stampa prima o dopo diventerà una questione per nostalgici e che dobbiamo abituarci a tutte le produzioni digitali, che è la crisi di identità che la maggior parte della gente dell'editoria, per quanto possa riscontrare, subisce in questi ambiti. La maniera, secondo me, invece, di affrontare la questione è capire come invece questi due mondi si intrecciano, come possono possibilmente creare dei prodotti che non sono nell'uno o nell'altro o l'uno integrare parte dell'altro e vedere che tipo di prodotti invece si riescono a mettere in campo. Uso una battuta quando parlo di questa relazione e dico che la stampa tradizionale e la stampa digitale prima uscivano insieme, erano fidanzati, adesso da un po' di anni sono definitivamente sposati ed è esattamente quando i problemi reali cominciano. È un po' così nel senso che i problemi reali per quanto riguarda la stampa stanno cominciando quando abbiamo un'integrazione oggettiva tra questi due mondi. Va bene, vi chiedo una mano nel tenermi attenti sul tempo così quando c'è da… ripeto, dovete fermarmi se no vado avanti fino all'inserimento delle forze. Dopo il libro succede un'altra cosa interessante, c'è una cosa che volevo accennarvi prima. Questi tre sono raccolti, ovviamente sono tutti in inglese, sono liberamente scaricabili. Vi posso dare indirizzi o mandarveli personalmente se vogliamo in qualche modo, se c'è necessità o voglia di comunicare poi al di là di questo seminario, ma sono liberi da scaricare, abbiamo prodotti in PDF e ovviamente sono assolutamente liberi da scaricare e da distribuire. Quello che succede, fra l'altro dopo il libro, è un'espansione di questi concetti in una maniera più specifica. E cioè, visto l'ambito artistico, c'è quest'altra proposta che arriva anche qui abbastanza inaspettata, ma che mi dà la possibilità di espandere la ricerca già fatta col libro. C'è un museo parigino che si chiama Jeux de Pomme, insomma Jeux de Pomme è la famosa sala della palacorda, c'è questo museo parigino abbastanza sugli scudi da un po' di tempo a questa parte, orientato verso la fotografia ma che comprende molteplici espressioni di arte contemporanea, che ha un programma specifico per la parte online. Cioè le due curatrici, fra l'altro spagnole trapiantate a Parigi, hanno pensato invece che avere il sito come semplicemente vetrina di quello che succede, di quello che fanno nelle attività del museo, di considerarlo, come hanno fatto già in precedenza tutto un filone artistico che è quello della NetArt, come spazio espositivo. Quindi di pensare a progetti specifici, curatoriali, che sfruttino parte del sito come spazio espositivo. E quindi hanno questo espace virtuel che dedicano a queste cose. La responsabile di produzione mi contatta e mi dice, farai vista da un sacco di tempo, ti andrebbe di curare questa cosa. C'è un tempo che tu puoi decidere fra sei mesi un anno e mezzo, un anno e mezzo, per sviluppare questo progetto specifico. Però dici su che temi lo vuoi fare. Ma, un a caso, mi piacerebbe sviluppare il progetto proprio su come gli artisti integrano invece i nuovi medium stampati, i nuovi medium digitali nell'editoria, come li hanno sfruttati prima, ma soprattutto cosa stanno facendo adesso. È stata un'esperienza bellissima per un anno e mezzo perché, oltre a includere progetti che venivano sviluppati, abbiamo avuto la possibilità di fare delle commission, cioè di dare un minimo di soldi ad artisti per sviluppare delle opere specifiche. E in una di queste vi accenno oggi pomeriggio. La cosa interessante, in questo progetto specifico, che abbiamo deciso di chiamare error d'impression, error di stampa, è che siamo riusciti a coinvolgere artisti che non stavano necessariamente su questi temi, che non avevano necessariamente sviluppato opere su questi temi, ma che insieme a noi, soprattutto nelle commission, sono riusciti a sviluppare delle cose specifiche, attraverso un dialogo che abbiamo cominciato a instaurare. Ve ne dico uno per tutti che è una delle cose di cui sono stato più fiero in assoluto. Fra le varie proposte di collaborazione c'era quella di un artista francese, in realtà olandese, anche lei trapiantata in Francia, Annie Abram, Annie quello che fa da anni sono performance in rete, cioè quello che fa è delle performance che vanno in streaming. Hanno delle caratteristiche molto coerenti con quelle che sono le performance come sono state concepite anche queste negli anni 60 e 70, cioè avvengono in uno spazio specifico, hanno una durata di tempo precisa e quant'altro, hanno una sorta di script ma poi evolvono in una maniera abbastanza autonoma. Quello che lei fa è fare queste performance in streaming, spesso coinvolgendo altri performance da angoli remoti del pianeta e facendoli tutte quante insieme e fruibili da tutti quelli che si collegano allo streaming in quel momento. Lei ultimamente sta collaborando con un dipartimento di letteratura, se ricordo bene, ad Avignon, l'università di Avignon, e ha cominciato a ragionare a dirci ma si potrebbe fare qualcosa? Noi stiamo utilizzando in particolare uno strumento che si chiama Pirate Pad, anche qui non so se siete familiari con questo tipo di strumenti, sono delle pagine web in cui si può fare della scrittura collaborativa. Perché non utilizzare Google Docs? Potrebbe dire qualcuno, perché con Google Docs, oltre a Google, su cui posso stare a parlare per parecchio tempo del perché, potremmo utilizzare qualcos'altro, ma con Google Docs quello che fate è fare degli interventi su un testo che sono dilazionati e soprattutto orchestrati dal software di Google. Con piattaforme quali Pirate Pad, Pirate Pad è una delle tante, quello che fate è scrivere in diretta, cioè voi scrivete, vedete in diretta quello che scrivono gli altri che invitate a scrivere sullo stesso foglio e siccome ciascuno di voi ha un colore diverso, capite immediatamente chi sta scrivendo che cosa. Potete anche stabilire delle regole, ma generalmente chiunque può intervenire su tutto. Per cui cominciate a arrabbiarvi e a lottare, l'altra persona comincia a cancellare perché scrivete voi e viceversa. Fatto sta che questa cosa va in una naturale evoluzione e lei ci comincia a dire che l'idea sarebbe quella di fare una performance basata su Pirate Pad. Bellissimo, facciamo sicuramente. Però capiamo come la possiamo fare e soprattutto quale può essere l'elemento nodale di questa performance. Non tanto chi ci scrive, nel senso che sì, ovviamente invitiamo persone a fusionare diversi, a scrivere tutti nello stesso momento, ciascuno di loro avrà una sua valenza, ma soprattutto che cosa scrivono, su che cosa si devono confrontare. E qui cominciamo a ragionare su come strutturare questa performance. E soprattutto l'idea è quella di partire da un testo originale, sul quale le persone intervengono. Anche qui, perfettamente nei canoni di come le performance artistiche di solito avvengono. Partire da un qualche elemento e poi agire su quello. Che testo prendere? A me viene immediatamente in mente un testo in assoluto, che sono... esercizi di stile. esercizi di stile. E io dico, lì ci sono cento versioni. Se noi mettiamo cinque, sei scrittori o comunque gente che scrive a elaborare quel testo specifico, non facciamo altro che incarnare lo stesso spirito che QNOW probabilmente aveva quando ha cominciato a fare il testo stesso. Cioè faremo la versione numero 101, ma non la versione numero 101, ma una delle innumerevoli possibili versioni aggiuntive di stile di quel testo iniziale, di quel breve testo iniziale. L'idea viene immediatamente sposata. Facciamo questa performance in due frangenti. Decidiamo di farla per non più di 15 minuti di scrittura, quindi intensa. E questa performance viene fatta nell'auditorium del museo di Gio de Pomme, con questi scrittori che intervengono in contemporanea e l'odens che vede come intervengono. Ci sono i colori che dicono chi fa che cosa, ma chi sia dietro quello specifico colore non viene rivelato, è anonimo. Sono due performance perché una viene fatta in lingua inglese e una in lingua francese. Questo per rendere il più possibili familiari chi ci deve intervenire con la sua propria lingua. Ma c'è un altro particolare importante, e cioè non viene fatta semplicemente con PiratePad, ma vengono coinvolti dei programmatori per fare una piattaforma basata su PiratePad, ma che in realtà riesce a registrare tutta la sequenza dei 15 minuti. Per cui non c'è solo questa centonesima versione del testo, del primo testo che si trova in Esercizi di Stile di Raymond Cunot, ma c'è anche tutta la sua evoluzione, che può essere ripercorsa avanti e dietro per capire come questa scrittura collaborativa avviene. Ed è particolarmente interessante, fra l'altro, perché ci sono delle dinamiche, loro per familiarizzarmi, hanno anche invitato a far parte di una di queste performance prima di quella di Joe de Pomme. Le dinamiche che si innescano in questa scrittura collaborativa sono interessanti, perché ciò che ciascuno fa, soprattutto all'inizio, in qualche maniera condiziona quello che succede dopo. E come si interviene sulla scrittura degli altri, se ci si interviene ovviamente innesca delle possibili dinamiche successive. Quindi si crea una sorta di astratta dinamica di gruppo letteraria che non è facilmente prevedibile a monte. E per questo poi è interessante poterla ripercorrere. Questa è stata una performance che insomma è andata particolarmente bene e per me era una delle commission più riuscite, perché realmente parlava, in questo caso, della scrittura, di come è possibile farla in maniera digitale. E cioè, compare il fatto, come vi dicevo, aprite una pagina web, vi scrivete in dieci e cominciate a scrivere in maniera collaborativa, cosa che ovviamente non è assolutamente possibile fare con la stessa tempistica, con le stesse dinamiche che si innescano in maniera cartacea. Ma poi, più che renderla effimera e farla scomparire, ne tenete traccia nella sua evoluzione, quella diventa una sorta di pubblicazione. Ed è una pubblicazione strana, perché è un testo che evolve nel tempo pur essendo fisso. Cioè, una volta finita, performance non è che si può cambiare, ci richiama un po' alla fissità della stampa tradizionale, ma è un qualcosa di diverso. E quindi si incastrava perfettamente con quello che era lo spirito di questa mostra. Ce ne sono stati 26 progetti in un anno e mezzo, se ricordo bene 6 sono state le commission, ripeto, più tardi vi parlo di qualche altro elemento. Questo libro di cui stavamo parlando prima, questa è l'edizione inglese del 2012. L'aneddoto è che non avevo raccolto tanto di quel materiale, ne continuo a raccogliere tuttora. E ne ho raccolto soprattutto dopo, per cui ho deciso a un certo punto, dopo qualche mese, di dedicare un numero di neural a queste tematiche. È stato soprannominato il numero della vergogna, perché andavo implicitamente anche a parlare del libro che avevo fatto, eccetera, eccetera, però in qualche maniera essendo poi tutti i contenuti che stanno qui ovviamente inediti rispetto al libro, si configurava come una sorta di addendum, è per quello poi che il sottotitolo è stato Postscript, come se fosse stata una sorta di Postscriptum. Ci sono una serie di interviste e di materiali aggiuntivi che quindi vanno in qualche maniera dare un altro addendum al libro stampato. Va bene. Volevo, dopo questa lunga introduzione iniziale, ditemi, state minucendo. Ah no, facciamo una cosa. Sì, no, possiamo anche andare avanti per un altro quarto d'ora, se ce la fate, e poi ci fermiamo. Volevo cominciare ad accennarvi queste questioni più specifiche. Le slide sono quelle che non sono riuscito sinceramente a tradurre in italiano, ma volevo cominciare ad introdurre un percorso. Il primo percorso che volevo fare, poi c'era un secondo, che si incrocia col primo, è quello di parlare di questi benetti ibridi. Facciamo una pausa ora e riprendiamo dopo. Facciamo così, va benissimo. Sì, 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 quanto volete.